Docente di lettere in provincia di Cremona, pubblicista e scrittore, fa il suo esordio adesso da romanziere con Io non sono Luca, Gambini editore e Achille Salerno, l'ospite di oggi a Pagine di Cultura. Un adolescente dalla storia difficile, un docente che riesce ad aprire un varco in quel guscio impenetrabile, da dove nasce l'ispirazione di Io non sono Luca? Principalmente dal mestiere di docente perché mi ha dato l'opportunità di conoscere dal vivo determinate vicende che non sono comunque inserite propriamente nella storia, la storia diciamo che è più che altro inventata, però alcuni elementi mi hanno spinto a poter comunque costruire questa vicenda e a poterla comunque poi ampliare cercando anche di metterci dentro un qualcosa che è sicuramente ancora attuale, abbastanza attuale. Luca è anche un ragazzo strappato dal suo sud? È un ragazzo che viene strappato dal sud, precisamente dalla Calabria, sfuggito da quelle che sono le dinamiche purtroppo criminali legate comunque all'andrangheta, per poter comunque arrivare verso il nord Italia, lontano proprio chilometri e chilometri e cercare di costruire una nuova vita. Ma non sarà facile perché estirpare da un momento all'altro una persona dalla propria terra con sicuramente anche una mentalità propriamente comunque legata, comunque anche molto molto affine a quello che è il suo mondo, poi sicuramente non sarà certamente facile. Ecco qui entra in gioco un docente che ritrovandosi una situazione molto molto scottante dovrà cercare prima anche un po' di risolvere la questione, non facile perché ci sono sempre di mezzo le burocrazie, ma poi tra l'altro si intenerisce dietro la storia, anche se comunque c'è di fronte un ragazzo molto duro, molto molto reattivo, che con vemenza reagisce e vorrebbe magari creare anche un muro intorno perché non accetta determinate regole. Ed è questo sicuramente anche una base essenziale su cui parte anche questo racconto. E chi deve ringraziare Achille Salerno per questo traguardo raggiunto? Allora ringrazio mia moglie perché mi ha spinto moltissimo per poter portare avanti questo lavoro, anche perché comunque credo che sia anche un tipo di racconto che consiglio tantissimo pure per la scuola, per i ragazzi, ma è anche destinato a un pubblico vasto che può andare sicuramente dal più giovane fino anche al più anziano. La casa editrice è la Gambini Editoria, ringrazio infatti Isabella Gambini che comunque in questi mesi mi ha aiutato, mi ha coadiuvato per poter portare avanti questo lavoro. E moltissimi altri colleghi, ma devo davvero davvero ringraziare anche i miei alunni, devo ringraziare comunque anche loro, gli studenti, perché giorno dopo giorno mi danno l'input, mi danno comunque l'opportunità, con alti e bassi, lo sappiamo tantissimo, nel cercare comunque di trarre determinati spunti, perché anche attraverso loro si può arrivare sicuramente a poter concepire delle storie, perché anche da loro si può partire per poter comunque realizzare un racconto e capire quello che è la dinamica giovanile, che certe volte comunque si interseca anche con contesti che, come dicevo prima, sono abbastanza scottanti. È un po' una sintesi esistenziale dello stesso autore che vive ormai da anni tra nord e sud? Sì, alla fine comunque è vero, perché comunque è qualcosa che poi tra l'altro ci porta a lasciare comunque anche queste radici, a comunque abbracciare quelle che sono nuove realtà, comprenderle, essere compresi, e alla fine credo che siamo tutti quanti come questo ragazzino, Luca, che poi tra l'altro comunque dà il titolo, io non sono Luca, no? Siamo tutti forse probabilmente come Luca, perché probabilmente comunque siamo sempre un pochettino come quei famosi no man's land, nel senso comunque siamo anche figli di una terra di nessuno, dove probabilmente non ci troviamo. Alle volte non è una questione fondamentalmente legata al territorio, quanto anche un qualcosa di personale, un territorio diciamo intimo, un territorio comunque anche che sta dentro di noi, in cui alle volte magari non ci ritroviamo e dobbiamo probabilmente comunque trovare le persone giuste, dobbiamo trovare comunque i contesti giusti per poter forse ritrovare la via. Dove acquistare il libro? Allora, il libro lo troviamo all'interno del sito Gambini Editore e a breve anche dovrebbe essere pure sui canali come Amazon, quindi quei contesti anche online dove si può ordinare. Grazie, arrivederci ai prossimi appuntamenti con Pagine di Cultura.